Teatro Accademia che cosa porta in scena qui al Teatro Sotto le Stelle? Allora noi portiamo un Pera de Rizet, che sono degli sketch praticamente, ben interpretati naturalmente, poi ci interessa il pubblico. È stato insomma tutto verte su sketch a rotazione? Sì, con delle problematiche sì comiche, però danno sempre da pensare, sotto c'è sempre un po' di dramma, anche se ci fa ridere. Quindi un po' di tragico comico. Esatto, esatto, esatto. Un bel motivo per venire via a vedere? Assolutamente sì, per distrarsi, non è una commedia impegnativa, la gente già con i problemi che ci sono vuole anche un po' ridere, un po' dimenticare i problemi, poi adesso vengo io da stamattina a pagare le tasse, era pieno di gente, c'era proprio la fila, quindi danno bisogno anche di vedere queste cose, di rilassarsi un pochettino. Grazie. Grazie.